Un nuovo volto per il campo sportivo Vittorio del Curto, da sempre gestito dalla CSI Delfino nel quartiere del Vallato di Fano. Per un importo di 500 mila euro i lavori riguarderanno diversi punti dell'area gioco, la messa in sicurezza e a norma di tutti quei parametri richiesti per gli impianti sportivi e un nuovo fondo per consentire ai ragazzi di giocare in tranquillità durante le partite. Prosegue quello che è l'impegno che con l'assessore Fanesi come amministrazione ci stiamo prendendo proprio per la valorizzazione di quelli che sono gli impianti sportivi. La riqualificazione del campo del Vallato è sicuramente un intervento necessario, necessario per tutto quello che è il campo sintetico ammalorato che va sostituito. Si tratta di un intervento che prevede la sostituzione di un manto sintetico con una leggera restrizione da ambo le parti ma che sia nel rispetto dell'omologazione della Lega dei Dilettanti per cui per essere proprio a norma e affini a quello che poi è naturalmente il perimetro di controllo. Dopodiché avremo una sostituzione anche di una parte della recensione che è quella rivolta alla strada e le panchine quelle dove gli atleti poi sostano in attesa di entrare in campo. La rete che tutt'oggi costeggia via Papiria verrà dunque sostituita con una nuova rispondente alle vigenti normative e dall'altezza di 250 centimetri. Altre modifiche invece saranno apportate anche all'impianto di irrigazione ma gli interventi non finiscono qui. Detto questo è una riqualificazione significativa di un polo attrattivo della città proprio perché ci teniamo veramente alla valorizzazione di quelli che sono poi i centri sportivi quindi il nostro impegno continua e proprio questa settimana concluderemo di dare l'incarico per quanto riguarda anche il sintetico che si realizzerà a Sant'Orso porteremo una variazione di bilancio nell'ordine dei lavori nel campo intermedio che anche questo verrà realizzato entro fine anno. Ecco mi sento di dire che sicuramente che questo sarà un intervento che potranno fruirne tutti i ragazzi della città ma anche le loro famiglie perché mi rendo conto che ogni volta che portiamo i nostri figli a fare attività sportiva nel momento in cui sappiamo che sono in un impianto in sicurezza che può rendere al meglio le loro possibilità siamo più felici anche noi. Grazie a tutti.